Allora, sono qua su Windows, in particolare Windows 11, però va bene anche per gli altri Windows. Perché faccio questo video? Questo video lo faccio per i miei allunni, perché siccome do un compito a casa da valutare, voglio che loro creino un loro account con loro cognome e nome, che poi loro si loggeranno quando entrano sul computer e si loggeranno con quel user, perché io in questo modo vedo se il file in Solidworks è stato fatto con quel user lì, ok? E dunque lo faccio opposta perché loro si creino un account nel loro computer, lo creino con il loro cognome e nome e poi nel momento che devono disegnare la parte, poi la relativa messa in tavola, si devono loggare sempre con questo account. Dunque fondamentalmente, io ci sono già però, anche se avessi un'altra videata, vado qui e vado in impostazioni, ok? In impostazioni arrivo qua, dunque qua clicco qui impostazioni, a questo punto vado qui in account e io ho due possibilità, o faccio l'account come famiglia, ok? Aggiungi qualcuno al gruppo di famiglia come poi abbiamo fatto a scuola, ok? Aggiungi un utente, naturalmente mi chiede un'email, ok? Dunque bisognerà mettere un'email e poi si va avanti e si crea l'utente. L'altra possibilità c'è anche quella, sempre se vado qui in account, vado sotto in altri utenti, aggiungi un account, ok? E però ci vuole o l'email o il telefono. E dunque in entrambi i casi comunque ci vuole un'email, che sia un'email non collegata a un altro Windows, ecco. Comunque, ecco, così bisogna fare l'account. In questo modo io saprò che il file, i file di Solidor sono legati a questo account. Va bene? Spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.